Il Napoli riprende il suo cammino. A Castelvolturno, i ragazzi agli ordini di Mazzarri si sono raggruppati per meditare sulle due brutte sconfitte, quella di Milano e quella di Villareal, che hanno interrotto un periodo d'oro. Giovedì e lunedì sono stati due brutti giorni, due brutti stop nella corsa all'Europa e allo Scudetto, che potrebbero lasciare tracce nel morale azzurro. Per questo Mazzarri ha l'importante compito di tenere sulla squadra, in vista dell'importante appuntamento di domenica al San Paolo contro il Brescia, una partita da non perdere per restare attaccati alla vete e soprattutto per non permettere alla quarta in classifica di recuperare punti importanti. I tifosi azzurri, messa la parola fine alla lotta a Scudetto, oggi sono convinti che il terzo posto è l'unico vero obiettivo degli azzurri, un obiettivo da non perdere per evitare i preliminari di Champions League. Il pensiero vola già dunque alla prossima stagione, alla Coppa dei Campioni. Per disputare un buon girone di qualificazione tra le grandi d'Europa occorre però avere un organico ben più ampio di quello visto in questi giorni. De Laurentiis dovrà dunque rinforzare la rosa e non sfoltirla per fare cassa. Sarà difficile però resistere alle sirene spagnole. Il giornale AS di Madrid titola nella sua prima pagina online Barcellona e Real si contendono Amsic. Il centrocampista, secondo il quotidiano sportivo, sarebbe obiettivo dei due grandi club pronti a dare il via ad un'asta con una base di 25 milioni di euro. La cifra non è certamente stratosferica. Il problema però nasce dall'offerta contrattuale fatta al giocatore. Si parla di 5 milioni di euro a stagione.